Eccoci anche questa sera qui con voi in onda con Luca Telese a commentare la conferenza stampa fiume della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tanti temi sul tavolo delle 43 domande che le sono state rivolte, le commenteremo oggi con Fabio Rampelli, Vice Presidente della Camera e uno degli uomini dei porti, padre dei fratelli e anche della Presidente Meloni e con la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone, Movimento 5 Stelle. Maggioranza, opposizione, tanti temi, tornate qui tra pochissimo. Buonasera, le 20.46 in onda l'informazione diretta della 7, oggi è una giornata speciale per molti versi, da un lato dobbiamo raccontare la conferenza di fine anno della Presidente del Consiglio Meloni che è la ricapitolazione di tutte le misure e anche il racconto che la Presidente del Consiglio ha fatto della sua politica e delle sue scelte. Ma non possiamo non ricordare, lo faremo alla fine anche con un video speciale, la scomparsa, il lutto che attraversa tutto il mondo, non solo il mondo del calcio. Vedete qui la copertina di O Globo, uno dei più importanti periodici brasiliani, racconta la morte di Pelé, il genio del calcio. A 82 anni, l'uomo che ha fatto soffrire l'Italia nel 1970, l'uomo che ha attraversato quattro mondiali, insomma si potrebbe dire qualunque cosa, ma forse è l'immagine simbolica dell'ultima generazione che poteva partire da una palla di stracci e arrivare fino alla gloria. Però detto questo vogliamo raccontarvi, ecco guardate queste immagini sono bellissime, ricordiamoci che Pelé cominciò veramente in una favela, attraversò la sua carriera quasi tutta in una squadra, il Santos che gli diede enormi soddisfazioni e poi finì la sua carriera in America, nel Cosmos, ma poi divenne ambasciatore dell'ONU, tantissime cose, insomma ne potremo parlare più tardi. Però partiamo subito dalla conferenza stampa della Meloni su un tema che non dividerà i nostri ospiti, ma che è un grande interrogativo per tutti noi, cioè le misure sul Covid. Allora questa pillola di Giorgio Meloni e iniziamo così. La 1. Il ministro Schillaci ha immediatamente disposto il tampone per chiunque arrivi dalla Cina, misura che però rischia di essere non completamente efficace se non è presa a livello europeo. Il modello di privazione delle libertà che noi abbiamo conosciuto in passato non mi è parso così efficace. E credo che lo dimostri bene il caso cinese. La mia idea è che si debba lavorare prioritariamente sulla responsabilità dei cittadini piuttosto che sulla coercizione. C'è una campagna che il governo sta facendo che invita alla vaccinazione, soprattutto ovviamente, gli anziani e le categorie fragili. Dopodiché, ovviamente, per tutti gli altri penso che l'invito principale che debba essere fatto sia di rivolgersi al medico e di chiedere a qualcuno che ne sa più di me. Onorevole Rampelli, la responsabilizzazione dei cittadini non è un po' l'invito alla responsabilità dei cittadini come alternativa a eventuali coercizioni e come prevenzione? Non è un po' in controtendenza con il reintegro anticipato dei medici Novax, la sospensione delle multe per chi non si era vaccinato, la sospensione dei tamponi per chi deve andare in un RSA. Come si tengono insieme l'invito alla responsabilità e l'allentamento delle misure? Sul reintegro dei medici non vaccinati, voglio ricordare che, mentre noi parliamo, praticamente nella giornata di domani sarebbero stati reintegrati, a prescindere dall'intervento del governo. E' un tema ampiamente passato, come del resto avevamo annunciato, perché ne abbiamo parlato già quando la polemica, come al solito, deflagrò. Io penso che questi provvedimenti siano molto importanti, molto tempestivi, sia anche importante, forse fondamentale, l'invito fatto all'Europa a non lasciare l'Italia da sola con queste misure, perché si dà il caso che i pesaggeri cinesi non arrivino soltanto in Italia, anzi prevalentemente arrivino in Italia attraverso spostamenti secondari. Quindi se questa norma non verrà estesa da Bruxelles agli altri Stati nazionali, rischia di diventare inefficace. Ma anche sulla persuasione è fondamentale che lo Stato, il più possibile, cerchi di convincere i cittadini a fare adeguata opera di prevenzione, proprio anche per evitarsi il dispiacere eventualmente a delle azioni coercitive che privano le libertà fondamentali ai cittadini, cosa che non è stata certamente accolta con grande entusiasmo nei due anni precedenti. Posso chiedere come commentò il titolo che vede in alto? Del 30 gennaio 2020, tre anni fa, e all'epoca i voli con la Cina furono fermati e il pericolo si immaginava potesse arrivare via aereo direttamente dalla Cina, che è più o meno quello che è alla base dei provvedimenti presi oggi. Sono passati tre anni, la risposta è la stessa, allora non andò benissimo, perché stavolta dovrebbe andare bene? Noi dobbiamo comunque fare quel che possiamo, e quindi le misure messe in campo dal governo, ripeto, penso che siano assolutamente condivisibili e di buonsenso. Anche all'epoca ci fu un tentativo di coinvolgere gli altri paesi europei con risultati deludenti, in questo caso voglio ricordare che la Cina ha praticamente interrotto la trasmissione dei dati sul contagio, e quindi risulta ancora più preoccupante, tant'è che forse ci siamo accorti noi per primi, attraverso gli accertamenti sanitari, che quasi un cittadino cinese su due, tra quelli che sono sbarcati in Italia, avevano il Covid. Però insomma io penso che tutto, ripeto, quello che è stato messo in campo sia... Sia sufficiente. No, sia sufficiente, probabilmente non è detto che lo sia, però sia il minimo indispensabile che potesse fare il governo. Non sembra entusiasta, però chiediamo alla segnatrice Castelloni che di formazione è medico, quindi brutalmente le faccio proprio la domanda, è sufficiente? No, deve cambiare atteggiamento. E chiedendo parte di me all'epoca. Il governo si sta comportando bene o male? E' chiaro che dopo tre anni non possiamo dare le risposte di tre anni fa, anche perché oggi sappiamo cosa si deve fare. Oggi serve il tracciamento se si vuole fare a tappeto, quindi anche per gli scali intermedi, e si deve tracciare chiunque a questo punto entri nel nostro Paese. Ma poi soprattutto si devono fare due cose. Rafforzare la medicina territoriale, e io voglio ribadire che in questa legge di bilancio non c'è un euro per la medicina territoriale per assumere personale che dovrà andare a lavorare in quelle case di comunità, negli ospedali di comunità, che devono fare da filtro agli ospedali. E non c'è nulla per gli operatori sanitari, in particolare per quelli del pronto soccorso, ai quali tra l'altro era stata annunciata un'indennità che poi invece è slittata al 2024. Quindi dire che oggi, nel 2024, siamo nel 2023, per un anno questi operatori sanitari che abbiamo chiamato eroi dovranno di nuovo da soli farsi carico del peso di una pandemia che abbiamo gestito solo grazie alla resilienza e al sacrificio del personale sanitario. I cittadini italiani hanno dimostrato in tutti i modi di essere responsabili, si sono vaccinati, hanno fatto i tamponi ogni volta che gli è stato chiesto. Adesso io credo che debba essere responsabile soprattutto la politica a fare quello che sappiamo che va fatto e che tre anni fa non conoscevamo. Oggi sappiamo che si deve agire subito sul territorio senza far arrivare tutti al pronto soccorso. Quindi io mi aspetto da un governo e da un ministro dopo tre anni di gestione di una pandemia quando sappiamo bene quali sono gli anelli deboli del nostro servizio sanitario nazionale che si faccia quello. Intanto non aver stanziato fondi per la sanità nella legge di bilancio è un segnale molto grave. Siamo già alla propaganda vedo. Non siamo alla propaganda, siamo ai dati. Voglio ricordare, lo farò solo questa volta, voglio ricordare che noi abbiamo preso praticamente in eredità una manovra finanziaria già tracciata dal governo precedente e dalla maggioranza che l'ha sostenuto. Abbiamo potuto fare pochissimi interventi anche perché buona parte di questa manovra come tutti sanno è assorbita dal caro Bollette. 21 miliardi su 35. Ma una manovra non si fa in 20 giorni. La manovra è frutto delle scelte del governo precedente. Però i 600 milioni per le squadre di seriali avete trovato? No, questa è un'altra bugia. Non le squadre di calcio. Le società sportive tutte avranno la possibilità di rateizzare. Non è cancellato niente. Le prime tre rate vanno fatte immediatamente. Subito e come per tutti gli altri ci sarà una rateizzazione. Detto questo, stavo dicendo che su questa manovra finanziaria nonostante per oltre i due terzi si tratti della legge di bilancio impostata e costruita da Draghi e dalla maggioranza quindi anche voi che l'ha sostenuto noi abbiamo 2 miliardi di euro in più sulla sanità. Bene, fermiamoci su questo e sentiamo... Bugia, bugia. Sentiamo la Castellone su questo. Guardi, ci aiuti perché sono due giorni e ne parliamo. Le società di calcio secondo lei sono state aiutate in maniera prioritaria o no? Sono state aiutate in maniera prioritaria perché quei debiti spalmati sono soldi che non entreranno quest'anno nelle casse dello Stato ma ci entreranno nel tempo quindi quest'anno con 3% in più. Quest'anno entrano meno soldi che vengono tolti ad altro come ad esempio alla sanità perché dire abbiamo messo 2 miliardi più sulla sanità quando sappiamo che 1 miliardo e 4 servirà a stento per pagare il caro bollette e c'è un'inflazione del 12% vuol dire di fatto tagliare alla sanità e infatti il rapporto di spesa sanitaria su PIL oggi è 6,2% con questa manovra di bilancio quando eravamo arrivati con fatica al 7% e sa Rampelli quanto era nel 2019 cioè prima della pandemia più alto 6,4% quindi mi dica lei se abbiamo ridotto o no la spesa è proprio il teccio preferito della Castellone Rampelli prima di una legge di bilancio c'è un Nadef che è stato fatto dal precedente governo se ci fossero stati degli indirizzi precisi non è che noi abbiamo tolto soldi i soldi non li avete messi voi noi ce li abbiamo messi 2 miliardi in più se non avessimo messo noi 2 miliardi in più sulla sanità probabilmente non ci sarebbero stati neanche i soldi per pagare le bollette energetiche da parte di questi istituti sanitari non c'erano 2 miliardi abbiamo messi noi 2 miliardi andiamo su misure a costo zero così non litigate noi con Rampelli nel caso i numeri del covid dovessero peggiorare prevedete la possibilità di reinserire obbligo di mascherine al chiuso obbligo di tamponi per entrare nei locali affollati chiusi avete scritto nel programma che il Green Pass non lo volete più che il lockdown non lo considerate neanche ma quali misure mettereste in campo se i numeri dovessero peggiorare? la Presidente Meloni ha parlato in maniera molto chiara di prevenzione di persuasione abbiamo fatto una grande battaglia per applicare quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e non solo gli istituti preposti ci hanno raccomandato rispetto al distanziamento fisico non quello sociale come è stato definito per due anni lunghi interminabili due anni e quindi cercheremo di evitare che la moltitudine si affastelli per esempio sui mezzi di trasporto pubblico negli istituti scolastici utilizzeremo come ha fatto la Regione Marche e come ha fatto la Regione Abruzzo governate dal centro-destra gli impianti di condizionamento d'aria per favorire la circolazione dell'aria quindi l'eventuale estrazione dei germi dei batteri dei virus che fossero nell'aria faremo tutto il possibile prima di arrivare a delle eventuali norme di coercizione che ci auguriamo di poter scantonare facendo un'azione più incisiva rispetto a quella dei governi che ci hanno preceduto si chiedeva di mascherine però non di coercizione le mascherine se aumentano i contagi si dovranno usare o no nei luoghi affollati spero che su questo non ci sia nei luoghi affollati ci sono addirittura dei luoghi dove ancora si usano le mascherine penso che sia una norma di prevenzione vediamo un altro elemento su cui c'è disaccordo tra l'evasione fiscale ci divertiamo molto la 2 la 2 è un linguaggio in codice io la morale da chi oggi è all'opposizione ma quando era il governo ha liberato i boss mafiosi al 41 bis con la scusa del contagio da covid ha impedito che la corte dei conti potesse mettere bocca su come venivano spesi 180 miliardi di euro durante il covid e ha approvato il condono di Ischia non me lo faccio fare sinceramente io voglio ringraziare il coraggioso impulso dato da Giuseppe Conte il cui governo aumentò di 3 miliardi le spese militari perché insomma credo sia importante lavorare trasversalmente da questo punto di vista era diciamo una stoccata non proprio amichevole della Meloni verso Conte anche un po' sarcastica come risponde senatrice Castellone intanto la presidente dovrebbe dare risposte su quello che intende fare piuttosto che ogni volta ripescare il passato e quello che intende fare a me è molto chiaro cioè in un momento in cui i controlli e la trasparenza andrebbero certamente potenziati guardiamo anche quello che sta accadendo al Parlamento europeo questo governo invece parla di aumentare non parla ha attuato un incremento al tetto del contante ridurre l'utilizzo delle intercettazioni abolire l'abuso d'ufficio rivedere il codice degli appalti aumentando la soglia degli affidamenti diretti quindi è la direzione totalmente opposta all'aumentato controllo quella di aumentare i controlli mantenere assolutamente la legge spazzacorrotti che invece si sta smantellando anche con l'ordine del giorno che è stato approvato che vuole reintrodurre la prescrizione ma l'ha votato anche il terzo polo però l'ha votato anche l'opposizione è già pronta un'eventuale stampella o allargamento della maggioranza onorevole Rampelli Rampelli vuole diciamo che le considerazioni che ascolto sono dal mio punto di vista surreali proprio per le questioni che comunque citava il presidente Meloni in questa conferenza stampa che è durata peraltro moltissimo ed è stata a mio giudizio davvero brava oltre che cortese disponibile io penso che appunto insomma le questioni che riguardano la giustizia siano lì che interessano tutti non c'è un partito che tiena la giustizia e che intenda essere assolutamente granitico nei confronti della corruzione però dobbiamo anche capire quello che accade nel paese sull'ergastolo stativo ad esempio penso che sia stato assolutamente necessario dire che coloro i quali si sono macchiati di reati infamanti che non si sono pentiti e che non collaborano con la giustizia e che non hanno dimostrato e non dimostrano non possono dimostrare di non avere rapporti con la filiera della criminalità organizzata debbano rimanere in prigione penso che sia giusto averlo sottolineato così esattamente principio quindi di rigore penso che sia giusto diciamo consentire alle persone che hanno anche fatto dei reati non legati alla filiera della criminalità organizzata contro la pubblica amministrazione di poter accedere alle pene alternative perché non si può mettere sullo stesso piano un mafioso con una persona che scorrettamente infatti deve pagare una pena perché questo deve essere chiaro non è c'è nessuno che ha abolito niente come lei poco fa ha detto non si abolisce nulla si dice soltanto che l'accesso alle pene alternative è possibile per chi commette dei reati contro la pubblica amministrazione l'abuso d'ufficio l'abuso d'ufficio non è un reato gravissimo un pubblico amministratore ci può scivolare su un abuso d'ufficio penso che equipararlo a un mafioso sia un'aberrazione e infatti lei sa bene che non è così perché l'abuso d'ufficio era già stato modificato nel governo succede che la gran parte della classe dirigente di questa nazione mi riferisco ai burocrati ai funzionari ai dirigenti non firma più niente non si prende più la responsabilità di mandare avanti i provvedimenti i procedimenti che servono alla comunità per svilupparsi e crescere c'è una precisazione da fare su quanto abbiamo ascoltato nella clip della Presidente Meloni perché non ci fu nessun detenuto al 41 bis scarcerato e mandato in detenzione domiciliare durante il lockdown erano esclusi i reati di stampo mafioso quello fu un provvedimento successivo è una cosa che non c'entrava con la pandemia e con il lockdown però c'è un altro terreno di sconto è la conseguenza di questo ed è la lotta che immagino si riprodurrà in questo studio che è già attraverso il Parlamento sul tema dell'evasione una domanda di un giornalista del fatto ha suscitato questa risposta di Giorgia Meloni 4 ho letto i condoni avete fatto i condoni no i condoni non ci sono nella nostra legge di bilancio nel senso noi abbiamo fatto una norma che chiede a tutti di pagare il dovuto che chiede a tutti di pagare il dovuto con una maggiore azione consentendo una rateizzazione le uniche cartelle che abbiamo stralciato sono quelle come voi sapete vecchie di più di 7 anni e inferiori a 1000 euro ma banalmente perché conviene allo Stato perché scuote la testa la Castellona no perché non c'è nessun condono grazie a noi che abbiamo evitato che fosse approvato un testo in cui invece si stava inserendo addirittura un condono penale per i reati fiscali quindi c'era tutta l'intenzione di approvarlo aver ratizzato a tassi tra l'altro molto agevolati significa di fatto significa di fatto premiare chi non ha pagato le tasse che segnale stiamo dando noi al paese cioè paghi o non paghi le tasse poi tanto meglio non pagarle tanto prima o poi il condono arriva e ripeto in un momento in cui i cittadini onesti sono in grandissima difficoltà a pagare gli aumentati costi della vita gli aumentati costi della bolletta lo Stato sta dando il segnale di dire noi intanto aiutiamo chi finora ha evaso le tasse e poi ci preoccupiamo degli altri secondo me in questo momento andava fatto una cosa totalmente diversa a me dispiace e poi bisogna semplificare alleggerire il fisco di questo ne parliamo da sempre io capisco che voi prendete voti soltanto su questa materia e quindi la dovete enfatizzare e raccontare frottole a destra e a manca però io penso che ci sia comunque un limite alla decenza allora intanto per cominciare come è stato spiegato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni noi siamo intervenuti sulle cartelle fino a mille euro e la Presidente Meloni ha precisato soprattutto in ordine al fatto che pretendere questi quattrini avrebbe costituito un danno per lo Stato che avrebbe speso più soldi di quanti ne avrebbe incassato seconda questione ci sono cartelle che si moltiplicano alla ennesima potenza a causa delle morosità che vengono applicate e quindi noi siamo intervenuti su queste morosità abbiamo detto si paga l'importo iniziale più il 3% che è comunque un provvedimento che diciamo così evita che lo Stato speculi su una contravvenzione poi le contravvenzioni sono state stracciate perché sono una competenza delle amministrazioni comunali quindi saranno i comuni che decideranno se fa pagare le contravvenzioni ai cittadini quelle di questa natura cioè con le sanzioni le maggiorazioni gli interessi di mora e quant'altro quelle per intenderci che ti arrivano a 50 euro a casa e poi magari perché non l'hai ritirata in tempo o per altre questioni di questa natura te le rovi a 500 euro dopo qualche anno quindi stiamo parlando di questo penso che sia un provvedimento equo non c'entra niente il condono che parola è il condono che cosa si condona oppure si rateizza perché stiamo rateizzando da due anni a questa parte e l'avete fatto voi per primi praticamente la qualunque si rateizza per consentire allo Stato di introitare perché altrimenti i cittadini che sono in crisi economica non pagano chi ci guadagna lo Stato anche il cittadino ma ci guadagna lo Stato lei prima al punto 1 ha detto che lo Stato ci rimetterebbe a esigere quelle cartelle ma lo scopo di una sanzione non è far capire che le tasse vanno pagate banalmente perché c'è chi le paga per senso civico e non guadagnarci come lei ha detto adesso lo Stato non deve lucrare su una sanzione del Comune perché il principio non vale anche per le cartelle che avete stracciato perché ci sono dei ritardi atavici perché c'è una sovrapposizione di carte che riempie interi palazzi che lo Stato non si è dimostrato tempestivamente all'altezza di andare all'incasso di queste piccole infrazioni bisogna riconoscere il merito anche di chi le paga le tasse non solo quello scolastico da 7 anni fa indietro nel tempo da 7 anni fa indietro nel tempo la Meloni ha una domanda esplicita anche in questo caso ha risposto che la lotta all'evasione fiscale non la considera una priorità perché considera una priorità più importante far ripartire l'economia era una sintesi brutale o è come dire una strategia di questo governo la lotta all'evasione fiscale la continuiamo a fare con tutti i mezzi che disponiamo anche se non accettiamo semplificazioni del tipo se si usa il contante sicuramente sei un evasore non è vero non è dimostrato da nessun istituto neanche da Bruxelles è dimostrato dalla tua fonte dice che non è dimostrato ci sono analisti economici che dicono esattamente il contrario la banca d'Italia dice che incrementando il tetto al contante aumenta l'evasione fiscale c'è un record lineare non è così comunque c'è un principio che per quello che mi riguarda varrà sempre che è il principio della libertà se io lavoro e ho dei soldi in tasca e me li sono sudati devo essere libero di utilizzare i miei soldi a prescindere ma tu li puoi utilizzare anche se sono tracciati o li vuoi utilizzare in maniera nascosta sul tracciamento c'è un altro problema il problema è che il pagamento attraverso la moneta elettronica e quindi utilizzando un servizio privato deve essere ovviamente è un bonifico perché 5 mila euro moneta elettronica insomma non è neppure semplicissimo c'è anche la questione del posto ma siete stati 15 giorni a raccontare barri sul posto adesso non è più il problema del posto non esiste più ma non esiste le voglio spiegare che il tracciamento non è solo la moneta elettronica è anche il semplice bonifico che invece viene disincentivato col malloppo da 5 mila euro da portare in tasca oggi anche un datore di lavoro può pagare un suo lavoratore con i contanti cosa che non poteva fare le suggerisco di fare ricorsa alla corte dell'aia visto che Bruxelles ha stabilito il tetto al contante a 10 mila euro noi ci siamo attestati a 5 mila euro perché in Bruxelles dovete mettere tutti un tetto al contante poi in base alla percentuale di evasione che avete decidete voi è alta o basta Bruxelles se ritiene che questo possa essere l'Italia credo che abbia un'evasione molto alta se siamo a 100 miliardi di evasione di scala io veramente fai parte del momento 5 stella hai fatto la battaglia contro i poteri forti e non sai che l'evasione fiscale è frutto A. dei grandi potentati finanziari B. del circuito della criminalità organizzata cioè tu pensi davvero che l'evasione fiscale provenga dai cittadini che utilizzano la moneta contante quando vanno a prendere il caffè o quando pagano le scelte 5 mila euro ma chi è che gira con 5 mila euro abbiamo solo questa curiosità chi è che usa 5 mila euro io questi pensionati che girano con 5 mila euro nel portafoglio rappelli meravigliosi che so che lei alla legalità ci tiene però non ci sono ma a me mi interessa se i 5 mila euro sono suoi lei è libero di fare dei suoi 5 mila euro quello che crede l'importante è che lo faccia nella legalità ma perché sono soldi guadagnati e in ogni caso ma chi sta dicendo che non possono utilizzare i propri soldi e in ogni caso il tema del pagamento diciamo così accadato certificato attraverso la moneta elettronica è legato al fatto che la moneta elettronica dovrebbe avere lo stesso identico costo della moneta contante e questo è il punto le do un'altra notizia se il servizio di pagamento attraverso la moneta elettronica è erogato dalle banche che sono un servizio privato e va pagato io penso che qualcuno si dovrebbe intestare una battaglia per cercare una formula che consenta alla moneta elettronica di essere gratuita esattamente come la moneta contante se anche su questo studiando un po' i report vi dicono che il contante costa gli esercenti più della moneta elettronica perché dovete inserire tutti i costi legati ai furti legati ai prelievi ai depositi in banca però io vi voglio portare cioè sarei su questo ancora molto perché vorrei capire quale complotto della banca d'Italia della corte dei conti e dell'ufficio parlamentare di bilancio si è audito per dire che appunto l'innalzamento del tetto al contante favorisce il nero e l'evasione ma ci ritorniamo magari in un altro momento io vi vorrei far vedere un altro momento interessante della conferenza stampa un momento molto identitario Rampelli lo vediamo insieme scusate clip numero 3 io credo che il movimento sociale italiano sia un partito che abbia avuto il ruolo molto importante di traghettare verso la democrazia milioni di italiani che erano usciti sconfitti dalla guerra è stato un partito della destra repubblicana è stato un partito che ha partecipato all'elezione dei presidenti della repubblica è stato un partito pienamente presente nelle dinamiche democratiche di questa nazione e francamente non capisco perché qualcosa che era perfettamente presentabile 10 20 30 40 50 anni fa debba diventare impresentabile oggi mi rimetto a quello che ho ascoltato perché non fa proprio una piega anzi io aggiungerei ma era stasiato mentre guardava per la Meloni o per il movimento sociale tutte e due tutte e due il movimento sociale italiano ricordo che ha avuto anche ha governato da movimento sociale italiano delle amministrazioni locali il movimento sociale italiano ha tenuto in piato dei governi quindi francamente non capisco quale sia il problema lei non è una versione un po' edulcorata diciamo della storia del movimento sociale una versione un po' diciamo più no non c'è niente edulcorato io ammiro quella generazione che dopo la seconda guerra mondiale ha avuto il coraggio la forza di rigenerare un pensiero un'organizzazione di destra senza essere nostalgica è stata una grande operazione e ricordo ancora che Giorgio Almirante che è stato segretario del movimento sociale italiano ha anticipato quello che poi accadde con l'alleanza nazionale a Fiugi ha cercato di realizzare la costituente di destra per la libertà e nella costituente di destra per la libertà chiamò fiorfiore di personalità politica nonostante ci fosse l'arco costituzionale e l'MSI stesse in un ghetto Armando Plebbe filosofo marxista Birindelli ammiraglio della Maria Militare la destra nazionale poi divene Agostino Greggi deputato della Polizia Anistiana non sono accorto di Mariana su questo se no non bisogna parlare voglio chiedere la sua opinione perché io da antifascista penso che i partiti siano il pilastro della costituzione il movimento sociale negli anni di piombo fece fronte contro la violenza eversiva della destra al punto che dopo la strage di Accalarenzia un corteo andò a contestare al mirante non lo trovò nella sede del movimento sociale lei cosa pensa però? io voglio rispondere con le parole della senatrice Segre che oggi tra l'altro ricordando che la senatrice Segre è la persona più anziana che vive sotto scorta a 92 anni in Europa è la persona più anziana a vivere sotto scorta proprio per le minacce che riceve ancora oggi da ambienti neofascisti e lei dice due cose la prima è noi dobbiamo fare tesoro di ciò che abbiamo vissuto e quindi mantenere viva la memoria di ciò che è stato e la seconda è tutelare il bene più prezioso che abbiamo che è la nostra Costituzione che ha come pilastro l'antifascismo quindi ricordiamoci questo e manteniamo saldi quei principi che hanno fatto grande il nostro Paese le persone che minacciano la senatrice Segre che sono esacrabili non sono niente a che vedere con la storia del movimento sociale mi pare abbastanza chiaro vorrei anche ricordare che l'MSI è sempre stato vicino allo Stato di Israele che l'MSI non è mai stato un partito antisemita e parliamo ripeto dell'MSI non di alleanza nazionale perché le immagini di alleanza nazionale sono molto chiare insomma parliamo della storia più recente quindi non esiste alcuna possibilità di affiancare la storia del movimento sociale italiano all'antisemitismo e io sono assolutamente vicino alla senatrice Segre che apprezzo che stimo profondamente e diciamo che condivido al 100% quello che è stato appena riferito sono valori condivisi c'è una foto che vogliamo far vedere non ci si può strumentalizzare sopra questa è Giorgia Meloni all'epoca in cui Rampelli la vide nascere fra l'altro c'era ancora il movimento sociale questa ragazza che allora aveva 19 anni entrò in una sezione della Garbatella e chiese la tessera del fronte della gioventù che era l'organizzazione giovanile come tutti sanno del movimento sociale Rampelli lei ha un ricordo di questa ragazza il primo ricordo in cui siccome lei è il maestro politico di Giorgia Meloni il padre politico qual è il primo ricordo che ha di questa esperienza lei è una ragazza determinata peraltro molto dolce affabile molto laboriosa la prima vittima di se stessa perché ha nei confronti di sé delle pretese assurde e quindi in taluni casi sì insomma davvero alla ricerca della perfezione e questo dal punto di vista nostro è incomiabile però immagino che possa far soffrire molte persone che hanno le sue stesse caratteristiche ha ucciso edipicamente il suo padre biologico è accaduto o può accadere anche il suo padre politico se lei ritiene che io sia il padre politico di Giorgia Meloni le dico che io faccio il vicepresidente della Camera dei Deputati sono il presidente vicario ho un ruolo molto importante ne vado orgoglioso un ruolo istituzionale di grande responsabilità non mi pare che questo possa essere accomunato agli scenari apocalittici che lei evocava poco fa lei ha visto nascere e crescere tutta la classe dirigente dei Fratelli d'Italia insomma li ha allevati in qualche misura ci è cresciuto insieme non c'era nessuno nella classe dirigente dei Fratelli d'Italia candidabile alla Regione Lazio motivo per cui avete diciamo chiamato Costa a fare il vostro candidato Rocca abbiamo chiamato Rocca lo abbiamo fatto unitamente ai nostri alleati Forza Italia e Lega abbiamo ritenuto che fosse importante condividere in questa fase delicata del nostro percorso anche la candidatura perché mentre in Lombardia comunque c'è un presidente uscente quindi l'abbiamo sostenuto perché non c'è assolutamente motivo per mettere in castigo i presidenti uscenti e qui invece va scritta una storia nuova e abbiamo preferito un candidato civico che comunque ha una forte sensibilità politica non è senta senatrice Castellone Rocca ha raccontato lui stesso di aver avuto una tremenda disavventura giovanile una condanna per spaccio di eroina fra l'altro per conto di un gruppo di nigeriani condanna che lui ha espiato per voi è una misura ostativa o credete come per esempio Marianna abbiamo discusso molto alla redenzione e alla riabilitazione non è sono solo la Costituzione che dice che uno si riabilita al di là di credere nella riabilitazione noi abbiamo dei criteri molto rigidi per i nostri candidati e per rendere candidabili quelli che poi saranno i portavoce coloro che rappresentano nelle istituzioni il Movimento 5 Stelle io più che entrare nel merito delle scelte degli altri difendo la nostra scelta di candidata nella regione Lazio di Donatella Bianchi che invece è una persona che rispecchia in pieno cioè non l'avreste potuto candidare ma avete Grillo che è condannato per omicidio colposo non entriamo in questo tema ma è stato candidato voi questo lo sapete Rampelli sul caso Rocca ma guardi Rocca ha fatto un percorso di riabilitazione che è meraviglioso io penso che dare una possibilità di riscatto e di rinascito di una persona che commette un errore a 19 anni sia molto bello insomma avere una società accogliente un partito anche accogliente una coalizione inclusiva che offre anche una ulteriore possibilità di riscatto ma in realtà il riscatto Francesco Rocca se lo è guadagnato sul campo perché io voglio ricordare che è stato amministratore pubblico per tanti anni che è stato colui il quale ha messo in piedi praticamente uno degli ospedali più importanti d'Italia il Sant'Andrea a Roma che era uno scheleto di cemento armato dentro il quale si facevano le riprese cinematografiche voglio ricordare che è un volontario e una parte della sua riabilitazione e del suo riscatto l'ha costituito nella carita diocesana quindi insomma davvero penso che abbia fatto tutto quello che è necessario per mettersi diato le spalle con l'incidente di percorso che merita la candidatura io però vi porto su un'ultimo ora prima di arrivarci vediamo ancora un pezzetto della conferenza stampa della Presidente Meroni e la clip 6 per la regia e poi andiamo sull'ultimo ora quello che sta accadendo in Iran per noi oggi è inaccettabile che l'Italia non intende tollerarlo oltre abbiamo fin qui avuto diciamo sempre un approccio abbastanza dialogante insomma no ma è inevitabile che se se non si dovesse tornare indietro rispetto al fatto che si sta combinando la pena di morte a degli innocenti l'atteggiamento dell'Italia dovrà cambiare completamente insomma ultimora di pochi minuti fa il Ministero degli Esteri iraniano ha convocato l'ambasciatore italiano a Teheran Giuseppe Perone per comunicargli la forte protesta dell'Iran per gli atti e le osservazioni di alcuni funzionari italiani che continuano è un virgolettato questo continuano a intervenire negli affari interni dell'Iran meno male direi io meno male che c'è una reazione meno male però signor Presidente Castellone noi non so se ho visto nella prima puntata e lo faremo sempre abbiamo messo la foto di una campionessa di scacchi che si è tolta il velo in segno di protesta contro le violenze contro le donne e contro chi protesta per la libertà in Iran qual è la cosa che si potrebbe fare in più e non si fa anche in questo caso l'Europa deve muoversi compatta in modo che il regime iraniano metta fine a questo scempio perché le condanne a morte di giovani di donne che stanno solo chiedendo più diritti sono un atto che nel 2022 non possiamo tollerare ma allo stesso modo dobbiamo condannare quello che sta accadendo in Afghanistan è un altro regime che sta infierendo sulle donne che da oggi non possono più accedere all'università donne che ricordiamo che a settembre hanno sfilato per solidarietà le donne iraniane in Afghanistan per direla andiamo su eccola la campionessa iraniana di scacchi in Kazakistan e la sua coraggiosa chioma però l'avevamo anticipato in apertura adesso che stiamo vicini alla chiusura manteniamo la promessa è morto Rampelli Rampelli vuole dire qualcosa forse su Pelé su Iran vediamo la clip ci torniamo dopo vediamo la nostra clip su Pelé grazie a tutti Abre os olhos pro futuro Que outro sol agora irà brilhar Brasil, Brasil A chama está acesa e pronta pra incendiar A alma e o coração Aqui no Brasil As nações do mundo prontas pra celebrar Amor e muita paz Unido somos mais Eccoci, arriviamo subito con un commento di Rampelli e Castellone su Pelé Però prima, Supersport, così ce lo leviamo in turno No, prima, no, facciamo prima il commento Torniamo subito, torniamo subito Allora, siamo tornati in studio Ci aveva colto mentre eravamo insieme questa notizia E Rampelli diceva una cosa Poi anche la Castellone Ovvio che Pelé è simbolo dello sport, il re del calcio L'immagine che a me, così in qualche maniera, mi viene stimolata dall'inconscio E' quella che si è finita un po' un'epoca Anche perché vediamo questi giocatori Contemporanei, particolarmente robusti Palestrati, invece in Pelé c'è proprio tutto lo spontanismo di una persona che viene dal basso Che gioca a pallone per la strada Un underdog Un altro underdog Con un pallone di stracci E quindi penso che sia davvero un grande mito Per me è stato un onore poterlo conoscere Assistere alle sue prestazioni calcistiche e sportive E penso che la generazione che ha potuto assistere appunto alle sue magie Sia destinata a portare nel cuore questa bella immagine dello sport Lo sport pulito per antonomasia Castellone Oltre al modello sportivo Io guardo anche all'esempio di riscatto A proposito di giovani che devono accontentarsi di fare un lavoro Che non sia il lavoro dei propri sogni Invece io ai giovani dico Voi dovete fare quello che ha fatto Pelé Continuare a lavorare, a lottare Per arrivare a fare quello che è il lavoro dei vostri sogni E lo Stato e le istituzioni vi supporteranno sempre La zampata sulla carriera congura Non ce l'aspettavamo Su questo però chiudiamo Dopo di noi c'è Bad Company, protocollo Praga Con Anthony Hopkins e Chris Rock Ringraziamo la senatrice Castellone E l'onorevole Rampelli per essere stati con noi E voi domani Devono tornare a discutere il reddito Perché sento elettricità nell'aria Noi invece torniamo qui domani Guarda io ci sono Anch'io A domani Grazie a tutti